Il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza ha disposto l'esecuzione di un piano straordinario di interventi finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno del lavoro nero ed irregolare. Il piano di interventi si colloca nell'ambito del contrasto all'illegalità economica e finanziaria con lo scopo di tutelare il corretto andamento del mercato del lavoro. L'operazione ha registrato 199 interventi, nel corso dei quali sono stati scoperti 162 lavoratori impiegati totalmente in nero, oltre a 7 lavoratori la cui posizione è risultata irregolare. Denunciate 85 datori di lavoro, su 280 posizioni lavorative sono necessari ulteriori accertamenti. Le ispezioni hanno interessato numerose tipologie di imprese ritenute a rischio, in particolare cantieri edili, imprese manifatturiere e call center. Nel nord barese in un'impresa manifatturiera sono stati scoperti 5 lavoratori in nero impegnati nell'attività di confezione e maglieria. In un call center, invece, erano impiegati ben 54 lavoratori, le cui posizioni risultano sospette e sono in fase di accertamento. I controlli continueranno su tutto il territorio pugliese.